un robottone di 4 metri da pilotare come se fossimo in un cartone animato esiste davvero e si chiama curatas un mech che rende omaggio al mondo degli anime e dei suoi robot storici insomma quelli diventati famosi anche da noi grazie a serie come gundam e robotech al progetto lavora da tre anni la giapponese sui bodashi ora finalmente il primo esemplare pronto da pilotare grazie ai trucchi spiegati in questo video a condizione ovviamente di abitare a kioto